La Campania è stata la prima regione in Italia a introdurre il servizio di psicologia di base. Nei primi cinque mesi sono state 10.000 le prestazioni fornite ai cittadini, 9.192 colloqui con la presa in carico di 2.650 pazienti. Il punto sul servizio che prevede una prima assistenza psicologica gratuita è stato fatto a Napoli durante il convegno dallo psicologo di base alla psicologa scolastica, passando per il voucher psicologico. Ad aprire i lavori il presidente dell'ordine degli psicologi della Campania Armando Cozzuto. Parliamo soprattutto nei primi due trimestri di attività. Si sono svolti oltre 10.000 colloqui su tutto il territorio con dei dati interessanti che riguardano un aumento dell'accesso ai servizi di assistenza e cura psicologica per soprattutto i più giovani. Durante i lavori si è discusso anche della legge che istituisce il servizio di psicologia scolastica approvata in consiglio regionale lo scorso luglio e della cabina di regia con regione e ufficio scolastico che lavorerà per farla entrare in vigore dal prossimo anno. Sull'argomento sono intervenuti la presidente della sesta commissione speciale del consiglio regionale Bruna Fiola e il direttore dell'ufficio scolastico regionale della Campania Ettore Acerra. Il bando, la manifestazione di interesse riservata alle scuole partirà a fine maggio che garantirà in ogni scuola un punto di riferimento e quindi anche lì potremo cogliere i segnali di malessere dei nostri giovani. Sarà un supporto veramente importante per tutte le istituzioni scolastiche della regione che vorranno aderire perché in un periodo come questo collaborare per il benessere a scuola, per contro il disagio e per la dispersione è un dovere. A chiudere l'incontro il presidente Vincenzo De Luca. Credo che sia veramente una prova di eccellenza della sanità campana, una delle tante prove di eccellenza. Ci auguriamo che sia assunto a livello nazionale.